Presidente, io mi ero ripromesso oggi di non intervenire per il semplice fatto che ho le idee abbastanza chiare su cosa fare, scottato anche vicende del passato e recenti che adesso magari spiegherò. Non volevo intervenire, però poi qualcuno ha voluto indirizzare la discussione, portare questo Consiglio Comunale verso un binario che a me non piace, una discussione che non mi sta assolutamente piacendo, addirittura con delle intimidazioni nei confronti dei consiglieri, perché altrimenti se non approviamo il bilancio, ma deve smettere di voler speculare sul discorso delle assunzioni. Signori, perché le assunzioni partiranno, quindi tranquillizziamo tutti, facciamo rilassare un po' tutti, finiamola di buttare benzina, di accendere fuochi inutilmente perché non è assolutamente il caso, le assunzioni come già è stato detto partiranno e dobbiamo chiedere che qui dentro non ci sono buoni e cattivi, buoni che vogliono le assunzioni e cattivi invece che non le vogliono, quindi finiamola con questi argomenti, perché se noi avessimo voluto fare campagna elettorale, avremmo potuto presentare emendamenti, avremmo potuto stravolgere il bilancio forte dei numeri che abbiamo, perché la maggioranza è tale soltanto nel termine, no? maggioranza poi di fatto sappiamo come la geografia politica all'interno di questo Consiglio Comunale, ma nella vita occorre prendere delle decisioni e fare delle scelte, decidere da che parte stare, se stare da questa parte, sempre, o se stare un giorno da quella parte, poi da questa parte, fare fin di essere maggioranza e poi posizione e via dicendo, sono delle scelte che vanno fatte in politica, in maniera chiara e netta, perché il voto sul bilancio è un voto politico, è un giudizio politico sull'operato totale dell'amministrazione comunale, non soltanto su un semplice atto, passaggio o, per tornare al discorso prima, sulle assunzioni, non ci sono soltanto le assunzioni, il voto sul bilancio è un voto, come detto prima, politico, su tutto l'operato dell'amministrazione comunale, per cui noi dobbiamo decidere che cosa fare, se sostenere questa amministrazione comunale o se prendere le distanze, in politica ci vuole anche un minimo di coerenza, io voglio fare un passo indietro proprio a proposito di emendamenti, io vorrei fare un passo indietro all'anno scorso, al bilancio di previsione del 2022, era per l'esattezza l'otto di luglio, mi sono andato a documentare, l'assessore del bilancio sa a cosa mi riferisco, agli emendamenti che l'anno scorso, in un clima di collaborazione a parte dell'opposizione, abbiamo voluto così, intraprendere, portare avanti, presentare, ebbene, lo voglio ricordare a tutta l'aula, lo voglio ricordare pure a chi sta a casa, l'assessore non c'era, non ha nessuna responsabilità, però il sindaco è rimasto lo stesso, l'assessore era diverso, ma il sindaco è lo stesso, così come tanti altri assessori sono gli stessi. Quest'aula ha approvato dei emendamenti all'unanimità, quest'aula ha messo a disposizione dell'amministrazione comunale dei soldi per realizzare delle opere nello specifico, alcuni emendamenti l'ho presentato io, altri il collega di Dio che non vedo, altri la collega Visconti che vedo lì nello schermo, così come tanti altri consiglieri. E sapete, cari concittadini, cosa è successo dopo un anno? Qualcuno lo sa? Non è successo niente! Abbiamo messo i soldi a disposizione l'amministrazione comunale con il mandato specifico di fare, vogliamo fare anche dei nomi e cognomi, la strada al Ghibli Gabib che non avete fatto, di abbattere le barriere architettoniche in alcune strade che non avete fatto, di collocare una ringhiera in via Leone XIII che non avete fatto. Per cui, ma perché di nuovo oggi noi dovremmo dare fiducia a questa amministrazione comunale che ha dimostrato di essere incapace di spendere soldi? A meno che cosa ancora più grave, quei soldi li ha spesi in maniera diversa rispetto all'indirizzo dato dal Consiglio Comunale. Sarebbe comunque grave, sia se i soldi non li ha spesi perché è stato incapace di spendere soldi, sia se le ha spesi in forza ancora più grave in maniera diversa. Per cui, i consiglieri che ora dimenticano tutto il resto perché vogliono spostare l'attenzione su altro, io li invito ad una riflessione. Che dalle assunzioni partiranno lo stesso. Io ho fatto una scelta chiara, quella di stare all'opposizione, rispetto alla volontà degli elettori che mi hanno voluto all'opposizione. Il giudizio è negativo su questa amministrazione comunale, di conseguenza il voto non può che essere tale. Però poi mi riserverò un tele di dichiarazione di voto di entrare ancora più nel dettaglio. Volevo soltanto fare questi chiarimenti perché, come ha detto poco fa il collega Pruzzaniti, è giusto chiedere all'amministrazione determinate cose. Attenzione, lo facciamo non a titolo personale. Quando noi chiediamo qualcosa, lo facciamo perché sono cittadini che ci vengono a cercare perché vogliono risolte problematiche qui nell'altra zona. Uno da fiducia chiede, ma se poi quelle richieste legittime, stiamo chiedendo di sistemare una buca, a proposito devo rifare l'ennesima segnalazione perché c'è una buca da un anno, non so se comprare una torta e festeggiare un anno a quella buca, nel frattempo si va ingrandendo. Così come tante altre interrogazioni che vi ho presentato e che a distanza di anni quello che avete promesso nelle risposte non è stato poi realizzato. Per cui, poi diceva il collega, poi noi chiediamo, non otteniamo, veniamo in aula, ci arrabbiamo e poi c'è il bilancio. Il discorso è semplice. Riprendo quello che ha detto che può fare, collega Pruzzaniti, e accade questo. Evidentemente, chi oggi verrà qua ad approvare il bilancio vuol dire che è contentissimo di quello che l'amministrazione sta facendo. Grazie.